ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti eccoci qua siamo in un nuovo video oggi andiamo a fare un video confronto tra la collezione della tops della champions league un euro per 10 figurine e la collezione fifa 365 2022 per quanto riguarda la panini quindi da una parte abbiamo la champions con i diritti della uefa per la tops e dall'altra abbiamo la panini con i diritti della fifa andiamo a vedere vediamo un po di differenze ma prima di tutto vi voglio far vedere una cosa all'interno del box che si trova in edicola me lo sono fatto dare dall'edicolante guardate un po cosa c'è questa è la pubblicità che loro mettono in edicola è un piccolo poster che io ho trovato davvero molto molto bello ragazzi della tops con la champions e insomma questa è la copertina poi dell'album e lo teniamo come sottofondo di questo video lo terremo come sottofondo che ci farà compagnia ogni volta che andremo ad aprire le tops fatemi sapere se vi piace questa collezione se volete che io ve la porti così facciamo anche questa collezione insieme per il momento andiamo aprire un po e un po sia fifa che champions e notiamo un po di differenze partiamo da dalla fifa visto che ne abbiamo uno in più andiamo a vedere questa collezione anche sta andando molto bene ragazzi ancora ce ne mancano un po ginter e go sense bruno fernandes e fred valbuena e brusai correa e la nostra vecchia conoscenza depol andiamoci ad aprire un pacchetto della champions con molta attenzione ragazzi perché all'interno c'è sempre una figurina un po più grande che rischia sempre di rovinarsi uh guardate chi è ragazzi racing star timber del 2001 l'ajax ovviamente sempre la numero uno a sfornare i campioni quindi chissà che questo ragazzo un domani non possa diventare un giocatore importante a livello europeo ci andiamo ad aprire bene il pacchetto eccole qui molto più piccole della fifa 365 abbiamo dusan tadic il capitano dell'ajax blind il nostro giorgine cominciano subito le doppie uribe il portiere del besictas marcos iorente mezzo stadio che già c'era uscito la figurina di tops che già c'era uscita e marco verratti che già c'era uscito cominciamo benissimo ragazzi proprio doppie a go go ragazzi su una collezione che ha veramente un numero importante di figurine trovare già tutte queste doppie non ci fa certo piacere devole di maria bruno loves e devirson a warra molto interessante questo ragazzo del 98 van de beck e matic e i portieri che mi mancavano del tigress molto bene ci andiamo ad aprire anche un altro pacchetto fifa 3s 5 ovviamente voi fatemi sapere cosa ne pensate di queste due collezioni benzema asenzio e rulli pedri rising star molto bene brosovic e charanoglu ci andiamo ad aprire per oggi anche l'ultimo pacchetto sempre facendo molta attenzione alla figurina più grande per non rovinarla eccolo qui hot shot ziuba ziuba ragazzi ziuba e andiamo a vedere anche queste più piccole abbiamo lo stemma dello shaktar di donets o una un giocatore che gioca in italia sale maker diego joda del liverpool un altro giocatore che gioca in italia danzel dunfries elia brathwaite che già c'era uscito lewandowski che già c'era uscito pao torres e la calciatrice femminile che già c'era uscito perfetto ragazzi praticamente tutte doppione al secondo terzo spacchettamento mettiamo un attimo da parte la polemica del momento per andare a vedere un po le differenze nei giocatori delle varie figurine prendiamo ad esempio l'inter visto che ci sono uscite di tutte e due il formato è ovviamente molto diverso e guardate quasi la metà praticamente quasi la metà hanno un formato diverso che dire secondo me va un po a gusti io personalmente essendo affezionato alla panini mi sono buttato a capofitto a fare la collezione fifa 365 mi ha lasciato perplesso il fatto che le avessero fatte in orizzontali però ci può stare il fatto di cambiare per quanto riguarda le figurine della tops è un album molto più ampio sicuramente a tutti i diritti quindi si può concentrare su tutte le squadre della champions ha questa forma di stemma un po particolare che anche lì dipende un po dai gusti ragazzi non lo so ma anche in questo caso ci può stare cambiare un po non lo so a me personalmente piaceva l'idea di fare un album a parte che fosse panini per il fatto che io solitamente colleziono quasi solo prodotti panini ma il fatto di trovare anche squadre che sono un po lontane da noi ad esempio non lo so il palmeira eccolo qua il tigress cioè squadre un po più al di fuori mi piaceva questa questa cosa se invece voi vi volete concentrare più invece che su squadre e campionati più esotici tipo quello brasiliano che così io vi consiglio se volete rimanere in europa quelle della tops sappiate che è un album molto più ampio quindi occorrerà un impegno diverso se invece vi piace anche spaziare un po tra squadre non per forza della champions andate tranquillamente sulla fifa sulla fifa 365 detto questo ragazzi con non lo so con verratti e con chi ma andiamo così con una nostra vecchia conoscenza con verratti e depone a meno resta che salutarvi vi ho detto anche un mio parere ma soprattutto io voglio sapere il vostro parere perché ci tengo davvero ragazzi aumentiamo questa community aumentiamo anche alimentiamo il dibattito quello creativo ragazzi dove ognuno dice la sua però mi raccomando con educazione lasciate un commento e fatemi sapere io poi solitamente rispondo sempre un po a tutti quindi mi raccomando ragazzi con educazione creiamo una bella community un bel incontro di pensieri detto questo vi ho fatto perdere anche fin troppo tempo a me non resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata